Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon lunedì 13 febbraio con il Vangelo secondo Marco, 8, 11, 13. Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse, perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico, non sarà dato alcun segno questa generazione. E lasciateli risali sulla barca e si avviò all'altra sponda. Segue il commento di Don Luigi e Maria Picocco. Sei convinto che Dio è tuo padre e ti ama? C'è uno strano rapporto tra i segni e la fede. Molti di noi sono convinti che la fede nasca dai segni. In realtà questo tipo di convinzione è pericolosa per almeno un paio di motivi. Il primo è che se la fede dipende dai segni, allora appena finiscono i segni finisce anche la fede. Il secondo motivo è ancora più serio. Perché la ricerca dei segni è in realtà tentare Dio. Infatti se tu sei convinto che Dio è tuo padre e ti ama e che Gesù ha dato la vita per te, che senso ha chiedere altri segni? Se li domandi è perché in fondo tu non ci credi veramente. Su questa incredulità, che molto spesso nasce dal dolore e dalle ferite della vita, il demonio costruisce i suoi ragionamenti perversi, per convincerci o che Dio non esiste oppure che se esiste in realtà non ci ama. Ecco perché Gesù non ha seconda la richiesta dei farisei nel Vangelo di oggi. C'è però da dire che proprio perché siamo amati, il Signore non ci lascia senza prove di questo amore. senza i segni di questa dedizione vera che ha nei nostri confronti. Ma questi segni sono un dono gratuito, suo e non una pretesa nostra e molto spesso ce li concede quando ne abbiamo bisogno. E chi conosce davvero il nostro cuore, i nostri bisogni, se non lui, allora lasciamo fare lui e non ostiniamoci noi.